Ultimo appuntamento della settimana con le daily news di Mr. Gadget, buona giornata e buon venerdì soprattutto per chi vede questo filmato in real time. Tante le notizie di oggi che cerchiamo di concentrare a partire da quella dedicata ad HTC One. È partito ufficialmente il countdown per lo streaming dell'evento del 25 marzo nel pomeriggio quando sarà lanciato in contemporanea a Londra e New York il nuovo HTC One. Insomma ormai sappiamo quasi tutto, ci manca solo il posizionamento di prezzo, poi credo che abbiamo scoperto tutto quello che c'era da scoprire. Forse non sapevamo, l'abbiamo saputo ieri ufficialmente, che in Inghilterra il prodotto sarà in vendita proprio dal 25 marzo. Non sappiamo ancora però quando arriverà in Italia, dovrebbe essere nel giro di pochi giorni dal lancio ufficiale. Invece novità per quanto riguarda Google che potrebbe lanciare qualche aggiornamento al suo sistema operativo prima dell'arrivo di Google 4.5.1. Una nuova versione è stata colta online e quindi potrebbe essere l'anticamera di un aggiornamento per risolvere qualche problemino. Sappiamo che Android KitKat non è esente da bug, in particolare per la gestione di alcuni aspetti che rendono la batteria ancora non ottimale. Noi, nonostante Google si sia dimostrata recidiva su questo argomento, siamo ancora lì a sperare che prima o poi arrivi un aggiornamento e cambi le cose. A proposito di aggiornamenti per i servizi di Google da ieri, Gmail, Encryptam, quindi rende irrintracciabile ogni mail che viene spedita ai server di Google. Viene utilizzato sempre e comunque il protocollo HTTPS per la spedizione di messaggi criptati. Tutto questo per rispondere un po' alla voglia di curiosare nelle nostre email di molti soggetti, tra cui il governo americano. Mondo Sony, due notizie. Una, secondo cui la PlayStation 4 probabilmente non sarà facilmente reperibile nel corso dell'estate, perché la domanda sta continuando a crescere e il ritmo di produzione non è sufficiente per rispondere alle esigenze di tutti. Quindi se tra un po' comincerete a vedere poche PlayStation 4 in circolazione saprete il perché. Sempre dal mondo Sony, una situazione curiosa, bizzarra. Il telefono Z2 era stato presentato a 599 euro sul sito ufficiale di Sony. Ci sono screenshot dappertutto che testimoniano quale fosse il prezzo. Da ieri è diventato 679 euro. Mi chiedo cosa succeda a coloro che l'avevano già preordinato. Altra notizia riguarda invece futuri telefoni Note 4 e l'LG G3, che probabilmente avranno la stessa tecnica di isolamento dall'acqua del Galaxy S5. Quindi probabilmente è lo stesso livello di certificazione, che non è a livello di Sony, ma comunque rende impermeabile il telefono, ad esempio, quando bisogna rispondere al telefono sotto la pioggia. Una notizia che potrebbe fare felice molti torna Flappy Bird. Secondo il creatore tornerà in una versione ancora migliorata. Siamo curiosi di vedere se ripartirà anche la malattia che abbiamo visto nelle settimane scorse. E poi alla fine, ultima notizia. Per chi prova beta, ormai la cosa non è una cosa strana, però Twitter nella sua versione beta ha introdotto praticamente i favoriti. Quindi si potrà mettere tra tutti i contatti che si hanno selezionato e le persone che si seguono, una serie ristretta di persone i cui tweet saranno messi in una barra separata. Tutto questo ovviamente per ovviare al problema che quando si seguono mille personaggi poi c'è il flusso e soprattutto il traffico di un media tradizionale. È come combattersi a questo punto lo spazio in mezzo a centinaia di radio. Lo stessa cosa vale in mezzo a migliaia di tweet. Questo ed altro ovviamente ogni giorno su Mr. Gadget, questa sera alle 20 su Radio Number One e sempre su mrgadget.net. Ciao!